Accompagnata da Mario Pianesi, fondatore dell'Associazione Internazionale Un Punto Macrobiotico, Tara Gandhi, nipote del Mahatma, è arrivata nelle Marche per portare il suo contributo con la relazione Sviluppo Sostenibile Pianesiano Un'Idea per la Pace, al primo convegno nazionale Un Bosco per la Città, che si è svolto sabato 24 maggio alla Mole Van Vitelliana di Ancona. Quanto lei sta facendo per il bene del mondo e degli esseri umani, assume un valore di estrema grandezza, soprattutto oggi, in cui i valori della pace, dell'accoglienza e del rispetto della persona sono continuamente calpestati. Con queste parole l'assessore all'ambiente Maura Malaspina ha salutato la Gandhi, interprete attiva e impegnata a promuovere nel mondo la cultura indiana e il messaggio di pace del nonno paterno. Tara Gandhi è vicepresidente del Casturba Gandhi National Memorial Trust, centro fondato nel 1945 dal Mahatma e intitolato a sua moglie per aiutare le donne e i bambini più poveri. Il progetto Gandhi Indoor, promosso nel mondo, vuole creare strutture di accoglienza e assistenza sanitaria per dare la possibilità alle donne di ricevere una preparazione professionale e ai bambini di accedere all'istruzione. Il centro di Indoor è il più importante dell'India e gli aiuti vengono dati senza distinzione di razza e di casta. L'essere nipote del Bapu, aggiunto nel suo saluto l'assessore Malaspina, significa continuare nell'attualità il percorso avviato da un grande, tra i più grandi uomini della storia. Oggi abbiamo bisogno di lui più di prima. Il suo pensiero e la sua filosofia sono di insegnamento alle nuove generazioni, che devono saper recuperare il rapporto per quanto vi è di più sacro al mondo. L'amore puro, che significa non violenza, tolleranza religiosa, rispondere al male con il bene e una vita migliore per l'umanità.